La Will ha rotto gli indugi. Abbandonata la linea morbida, ha sposato l'idea dello sciopero generale proclamato dalla CGL. Domani i due sindacati scenderanno in piazza per chiedere al governo di passare dalle parole ai fatti. Basta politiche sociali e del lavoro, fatte di annunci. Il Paese e la Calabria hanno dichiarato l'unisono. I due segretari regionali, Michele Gravano e Santo Biondo hanno bisogno di fatti concreti. CGL e Will parlano di governo distante e in qualche caso totalmente assente. A cosa è servita l'istituzione della cabina di regia, lamentano Gravano e Biondo. Se manca il lavoro alle persone in difficoltà, deve essere garantito uno strumento che restituisca dignità qualunque nome abbia, sussidio o reddito di cittadinanza. CGL e Will chiedono che la nuova giunta regionale dia un segnale chiaro sulla direzione che prenderà la Calabria. Allo stop di otto ore indetto dalle altre due sigle confederali ha deciso di non aderire la CISL. Sposiamo la linea del confronto e della concertazione, ha spiegato il segretario regionale Paolo Tramonti. Abbiamo avanzato delle proposte, siamo disposti a dialogare con il governo e con la regione.